Sì, diciamo che abbiamo fatto oggi una buona partita, non era facile dopo la grande prestazione che abbiamo fatto da Massimino contro il Catania, di venire qua del reggente contro l'Agras, sapendo come il mio collega Lello Di Napoli prepara le partite, una squadra di giovani abbastanza determinata e poi devo dire qualche anziano ancora che può fare la differenza, mi riferisco a Bruno Visente e mi riferisco a Bruno, quindi a tutti i giocatori che secondo me scuri, che possono fare un certo equilibrio quindi sono contento perché non era assolutamente facile venire qua e fare la partita che abbiamo fatto quindi per questo faccio un applauso ai ragazzi, alla squadra della Raleonzio, della Sicilia Raleonzio per come hanno gestito la partita nell'arco dei 90 minuti.